salve a tutti ed eccoci ritornati su hard word dove le costruzioni ti rompono a palette ma proprio a palette mi stanno dando una mano a costruire sopra la roccia per mettere i paletti sperando che nessuno ci arriverà mai il problema è che non ci arriviamo anche noi quello è il grosso grandissimo enorme problema piuttosto che costruire su hard word ti fico un dito da qualche parte fai prima giuro sono già nervoso che metta basta tre ore qua che stiamo provando a far qualcosa e non si riesce granché avevo anche messo un muro in più tanto per cambiare e mo dovrò risalirci li salvo che non cado mi sa che non ci riuscirò più a salirci li oh signor ok fin qua ci siamo fin qua ci siamo ok pian pianino pian pianino magari se tolgo la modalità costruzione finché arrivo a nel punto equilibristica alla grande ok fin qua ci siamo arrivati mo ci serve questo piccolino riusciremo a metterlo o alleluia qual abbiamo messo qua se cado mi romperò le gambine qual abbiamo messo ma invece ciao chi ci arriva fin lì io non di sicuro come caspita cavola ci si fa no non ci arrivo non ci arrivo mi sono salvato per un pello oddio bravo che io mi sto dedicando ai muri qua sotto ma o signor te l'ho detto io piuttosto che costruire qua ti signorifichi un dito da qualche parte mamma mia non non ci riesco a mettere stimoli aiuto se alleluia sto cadendo giù e io pure a breve ci arriverò a mettere un muro la sopra uno qua l'ho messo e la ce l'ho fatta poi devo risalire su e mettere quei muzzi mezzi muri muzzi muri e ho inventato uno una nuova parola il dialetto italo romeno romeno no ma dai dopo rifare tutto il giro prepariamoci già ok 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 fin qua ci siamo arrivati e rifacciamo tutto il giro tutto 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 ok frenchi non rimanere lì così che muori di caldo ok fin qua ci siamo muro messo dai no come risorse sufficienti nooo dopo tutta sta faticacia di arrivare fin qui pure non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere oh santa pazienza eh vabbè nel frattempo vediamo un po' i lavori qua sopra metà fatti da me e le rampe fatte da frenchi ok qua ce l'ha fatta uh ce l'ha fatta udire bravo frenchi quanto metallo ci servirà per tutto sto discorso il server che l'haga pure oh signor beh però devo dire la verità uscirà una bella casetta dai tutto sommato sotto faremo il garage dobbiamo occupare anche le rocce qua intorno mmm esci ok lì scendiamo andiamo a vedere se per bu di chi abbiamo ancora del metallo da qualche parte poi dovremo romperci le scatole anche a fare una specie di tetto lì e i tetti vi posso assicurare che sono ancora più rompi scatole di qualsiasi altra cosa in questo gioco già qua un lavoraccio dm forte ok siamo arrivati al primo piano metallo 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 dimmi che oh c'è ancora un po' di metallo almeno che finisco quella fare lì poi si vedrà qua niente questo è già finito me ne ha fatte poco ma dimonio ne ho quindi hai visto patata mia mamma mamma dovrà prendere una laurea in arhitetura breve con tutto il rompimento di scappare di qua e io sono una stai utile in servia dove sei caduta te qua oh ok nuori saliamo tu 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 hai visto? tu 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 eh certo se non mi avvicino tu non ti chiudi ok entriamo qua rifacciamo tutto il giro un'altra volta e di nuovo Cassù Frenkie che è rimasto lì ok fin qua ci siamo piano piano la mia piantagione come si vede bene da quassù se cado dirò addio al mondo crudelle stavo anche pensando potessi fare una ponte direttamente per arrivare sull'altra roccia per non fare di nuovo tutti i giri si vedrà tanto sotto abbiamo ancora da costruire che meta basta ok non tu qua sopra proprio no ok aspetta fin qua fin qua ci siamo oh no oh no lì non ho più fatto muri e ora voglio proprio vedere come farò io il tetto qua sopra adesso ci si arriva anche da qua solo che ci fermiamo a metà potrei passare e mi sa che mi sa che mi conviene passare di qua si per mettere oh ci abbiamo fatto ci abbiamo fatto dai non cadere ok ok fa anche buio intanto qua servirà una porta e facciamola e questa più grossa oh cos'è qua? non me la fa mettere qua e dai me la fa mettere solo così? e vabbè dai però cavolà che no te la fa mettere te la fa mettere aspetta 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 vediamo adesso più che altro se riusciamo a mettere proprio la porta e chiudere non c'è proprio voglia di sprecare materiali per niente visto che manche ne abbiamo oh porta messa e vai si mangiare si pagata vuoi mangiare adesso andiamo tutti insieme ti piace? ti piace? cosa ha combinato mamma qua? fa tutto buio qua fa tutto buio si c'è notte su hard work e sto mettendo delle finestre così possiamo sparare sotto casomai e per di più anche per avere un po' di luce in più queste sono le finestre amore finestre no l'ho messo male ho sbagliato oddio hai visto? sto mettendo le finestre allora ti metti dritto di oggi magari ecco dai dai che ce la possiamo fare dai che ce la possiamo fare ok mi sa che sto già finendo il metallo beh qua non è che servono proprio le finestre ma vabbè dai ormai abbiamo iniziato così finiamo così ok fin dove me le fa mettere? ciccio mi serve anche qua eh in qualche maniera dovrò pur chiudere no antipatico mettimela dritta lì non me la vuol mettere far mettere dritta e mo no 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 c'era c'eri ecco così e anche qua dai poi feno vai no ma perché sempre è storto? uffa sempre è storto oh finalmente ok e fin qua ci siamo qua proprio le finestre non servono facciamo così ok e fin qua ci siamo così almeno qua possiamo anche mettere al tetto tranquillamente senza problemi tranquillamente senza problemi sono indecisa qua se mettere muri o se mettere le finestre qua intanto me le fa rimettere no perché ci sono già quelli lì ma sì ma sì quindi qua aspetta no 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 questo l'ho sbagliato assolutamente no sì ti erai posizionato bene uaf non ho fatto niente però qua si era posizionato bene ecco e ma qua per essere allo stesso livello a parte che qua non mettiamo né detti né niente quindi anche se non sarà allo stesso livello non ce ne può fregar di meno ok qua l'abbiamo anche messo un altro qua dai oh fatto e qua c'è un piccolo stacco ma va bene lo stesso vabbè basta con l'assaggino va bene costruzioni